Un catalogo delle virtù necessarie per i collaboratori del Papa e per chi presta servizio nella Chiesa. Papa Francesco lo ha offerto come sussidio pratico per poter vivere fruttosamente il Natale e tutto l'Anno Santo della Misericordia, parlando ai collaboratori della Curia Romana nella tradizionale udienza per gli auguri di Natale. Dopo il catalogo delle malattie curiali del 2014, alcune delle quali quest'anno si sono purtroppo manifestate anche con lo scandalo, il Pontefice ha assicurato che la riforma andrà avanti con determinazione e risolutezza. Per questo ha ringraziato tutte le persone sane e oneste che lavorano con dedizione, devozione, fedeltà e professionalità per sostenere la missione del Papa e della Chiesa. E per tornare all'essenziale, Papa Francesco ha proposto dodici coppie di virtù, utilizzando ogni lettera iniziale della parola misericordia come ispirazione. Da missionarietà, che rende la curia fertile e feconda e pastoralità, a idoneità, che è contro raccomandazioni e tangenti, a sagaccia, e poi spiritualità e umanità. L'umanità è ciò che ci rende diversi dalle macchine e dai robot, che non sentano e non si commuovono. Quando ci risulta difficile piangere seriamente o ridere appassionatamente, sono due segni, allora è iniziato il nostro declino e il nostro processo di traformazioni da uomini a qualcos'altro. Quindi il catalogo delle virtù necessarie è proseguito con esemplarità e fedeltà, razionalità e amabilità, innocuità e determinazione, carità e verità, onestà unita a maturità. Chi è onesto non agisce rettamente soltanto sotto lo sguardo del sorvegliante o del superiore. L'onesto non teme di essere sorpresso, perché non inganna mai colui che si fida di lui. L'onesto non spadroneggia mai sulle persone o sulle cosse che gli sono stati affidati da amministrare, come il servo malvagio. L'onestà è la base su cui poggiano tutte le altre qualità. Scusandosi per il vizio dei neologismi, Papa Francesco ha parlato poi di rispettosità, dote delle anime nobili e delicate, in coppia con l'umiltà, di doviziosità e attenzione, di impavidità e prontezza e infine di affabilità e sobrietà. La sobrietà è guardare il mondo con gli occhi di Dio e con lo sguardo dei poveri e dalla parte dei poveri. La sobrietà è uno stile di vita che indica il primato dell'altro come principio gerarchico ed esprime l'esistenza come premura e servizio verso gli altri. Chi è sobrio è una persona coerente ed essenziale in tutto, perché sa ridurre, recuperare, riciclare, riparare e vivere con il senso della misura. Prima degli auguri finali il Papa ha citato una preghiera attribuita al Beato Monsignor Romero, ma pronunciata la prima volta dal cardinale Detroit, Dirden, e che ricorda che siamo manovali, non capomastri del Regno di Dio. Possiamo piantare semi che un giorno nasceranno, ma non possiamo fare tutto.